no no ragazzi siamo quanto va? ma su un altro sono quante sono? 4 va dopo ciao ma bellezza mmm potrebbero è 4 1,2,3 4 potrebbe sì che è 4 allora sì non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, c'è una carta che l'ha acceso. Allora, spegniamo. Vediamo se ne spegne. Si è spento. Ciao, ciao. Allora, aspettiamo che un campanale... Che un campanale sono quattro. Allora, ci vediamo. Ciao a tutti. Anche per like. Ciao.